Moltiplicazione di due polinomi. Prendiamo due polinomi, più 3x meno 2y più 2x al quadrato più 3y alla terza. Effettuiamo la moltiplicazione. Applichiamo due volte la proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto all'addizione algebrica. Quindi prendiamo il termine più 3x del primo polinomio e lo moltiplichiamo per tutti e due i termini del secondo polinomio. In questo caso prima per 2x al quadrato e poi per 3y al cubo. In questo caso quindi scriviamo più 3x, apriamo una parentesi quadra che raccoglie poi il risultato della moltiplicazione tra primo e secondo. Quindi abbiamo più 2x al quadrato più 3y al quadrato. Questo è il primo passaggio che dobbiamo effettuare. Dopodiché facciamo la stessa cosa con il secondo termine del primo monomio moltiplicato per tutti e due i termini del secondo. Quindi mettiamo meno 2y che moltiplica, apriamo la parentesi, più 2x al quadrato più 3y al cubo. Chiudiamo la parentesi. E questo è il secondo elemento. Poi ci concentriamo sul primo elemento e possiamo vedere che qui abbiamo più 3x per più 2x al quadrato e quindi 6x al cubo. Poi moltiplichiamo 3x per il secondo termine e abbiamo più segno più per più più 3 per 3 9 x per 1x y al cubo. Poi abbiamo la seconda parte, quindi meno, perché meno 2y per 2 il segno è negativo, 2 per 2 è 4, meno 4x al quadrato y. E poi la seconda parte, meno 2y per più 3y al cubo che è uguale a meno 6y alla quarta. Il prodotto di due polinomi è il polinomio che si ottiene moltiplicando ogni termine del primo polinomio per ogni termine del secondo polinomio.